Più continuano a dire che non vogliono una città metropolitana, più semplice sarà spiegare perché con Francesco Russo si può cambiare le prossime amministrative. Il senatore Francesco Russo non se la prende più di tanto neanche con l'assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti che oggi boccia il progetto di città metropolitana ed attacca su due fronti, il primo interno al PD Triestino. Non c'era davvero bisogno dell'intervista dell'assessore Torrenti, i triestini hanno già capito benissimo, dopo Deborah Serracchiani, dopo Ettore Rosato, dopo la Grimm, dopo Nesladec e il consigliere Ukmar, si è capito che tutta la nomenclatura del PD sta con Crosolini. Le persone continuano a venire a firmare ai banchetti per la città metropolitana, loro sono contro Trieste metropolitana, in ossequio e in obbedienza ai diktat della governatrice Serracchiani. Il secondo fronte a detta del senatore Russo riguarda le cose da fare. Dopo aver annunciato il coinvolgimento del comitato 5 dicembre nella scelta del prossimo assessore all'ambiente, qualora vincesse, individua subito un luogo simbolo e caro ai triestini che del progetto città metropolitana potrebbe beneficiare. Miramare deve essere nel prossimo futuro, già dal prossimo anno, dentro le competenze della città metropolitana. Questo perché ci darebbe la possibilità di gestire una realtà abbandonata in maniera vergognosa. In questo caso il nemico che città metropolitana dovrebbe sconfiggere ha un nome, burocrazia. Avevo portato un imprenditore disponibile a investire dei soldi privati, perché i soldi pubblici non ci sono più, per ristrutturare Miramare. La burocrazia, quella burocrazia che vogliamo cancellare con la città metropolitana, con la semplificazione che è possibile, me l'ha impedito. Intanto la schiera di esponenti PD che prendono una posizione contro Russo cresce. L'ex vice segretario provinciale Pietro Faraguna ha pubblicato un post su Facebook, dove facendo riferimento alla Kermess Procosolini dello scorso novembre, se la prende con lo stesso Russo dandogli del Pinocchio e con una fantomatica Nonna Papera, in cui molti vedono Maria Teresa Barsaporopat, che non avrebbe ancora scelto chi appoggiare fra i due candidati alle primarie.